Cazzo. Terzo posto, non è male comunque. Lo so, lo so. Lo riconosco, sono andato abbastanza male per il Miss Hunter. Cazzo. ok forse è arrivato il momento di comprare una nuova macchina noi abbiamo 101 mila dollari vediamo che macchina si viene con 101 mila 116.000 la ferrari oddio io 100.000 la porsche ok allora aspettiamo un momento arrivano a 116.000 ci compriamo una bella ferrari dal 2009 ok intanto ci prendiamo questa auto gratis la bmw m3 20 auto in che senso per 0 ma no che non la vende per 0 io qui non lo so adesso se ci possiamo fare modifiche non lo so personalizza performance ok ma ci possiamo mettere le cose qua ok modifichiamole perché tanto e poi soldi li recuperiamoci come una ferrari intanto modifichiamo questa ok auto modificata andiamola a provare adesso già il suono mi piace qua c'è da spaccare con quest'auto ciao come va bene tutto bene ciao cavolo vorrei tanto creare una unicorn rtr come quella tu puoi creare un onisaurus rex certo poi dovrei venerarti beh per quello dovrei metterti in coda bello un momento no 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 aspetta tu non dovresti venerarmi già eh beh da lontano e col rispetto totale ok allora cioè lo sapevo ma volevo sentirtelo dire spai è ancora facendo il buffone con questi qua amico chiudi la bocca cai quei cerchi. Spike, dovresti dare un'occhiata a questo, anche se sei invidioso, devi rispetto a Bloch. Perché? Mi farà sentire tanto calore e conforto. Guardalo. No, seriamente, amico, è il numero uno. È il numero uno. Ho sentito che fa chiudere tutte le strade e ci mette un giorno intero per girare questo piccolo video tirassassi. Che cosa emozionante, amico. Chiunque può montare roba su un portatile e farla sembrare buona, no? Che dobbiamo fare per convincerti, eh? No, dico solo che se togli l'atmosfera da film, che cosa rimane, eh? Ok. 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 Ehi, ehi, ehi. No, ascoltatemi. Facciamo che giriamo una corsa in una ripresa senza tagli. Sì, come no? Aspetta. Come una ginkana in una ripresa. No, non una qualsiasi ginkana. Noi dovremmo ricreare la corsa di Ken, mossa per mossa. Ok, tu sei pazzo. No, non so con Emy, tu hai perso la testa di nuovo. Sei con me? Sei con me? Facciamolo. Dai, dai. Ok. Uno, due, tre. Accetteremo ben presto le vostre scuse. Contanti, carta di credito, va bene tutto. Cerco qualche location e ti chiamo. Oggi spacchiamo, vedrai. Spacchiamo sì, soprattutto io con questa nuova auto. Sto cazzo non muoverti, amico. Prova a prendermi se ci riesci, va. Cazzo, affanculo, vai. Oddio, 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 oddio. Ehi. Ok. Ah, sì, eh. Sto arrivando. Tempo che mi libero di questa polizia qua. Che non ho capito ben niente. Dai che li semino, dai. Affanculo. Coglioni. Coglioni. Sì Dovevo farla meglio Dai 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 Wow Non so che dire Sei la mia ispirazione Completa un'altra sezione così E faremo sicuramente il botto Continua così amico Certo Certo che continuo così Grazie